Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate? Operazione copertura! Nessuna gallina scappa dall'allevamento dei twidi! Dobbiamo andarcene da qui. So che il nostro ultimo tentativo di fuga è stato un fiasco. Queste galline stanno progettando di andarsene via. Il piano è... Passiamo sopra la rete. Potrebbe funzionare. Ora... Forse hanno trovato la loro unica speranza. Grazie signore e signori, siete un pubblico magnifico. Mi chiamo Rocky. E cosa la porta in Inghilterra? Ecco, le belle polostrelle inglesi, caro. Americani invadenti! Ciao, gru. Troppo denaro, troppo sesso e troppo cuirino. Qual è la mia domanda? E cosa? È una sforna pasticci, le galline vanno dentro e i pasticci vengono fuori. Oh, che genere di pasticci? Tutti noi voleremo oltre il recinto e il signor Bulbò ci insegnerà a farlo. Hai detto volare? Non voglio essere un pasticci? Non mi piace la salsa. Rocky! Sto rimando! Dai creatori di Wallace e Gromit, vincitori del treni Oscar. Rocky! Sarà lì prima cosa che tu possa dire, perdone mister! Osate sperare. C'è un posto migliore là fuori. E' un posto migliore là fuori. Paratevi a volare. E' un posto migliore là fuori. E' un posto migliore là fuori. Sì! Sì!